Comune di Pesaro e Marche Multiservizi rispondono alle tante segnalazioni di cittadini in merito a tombini intasati in vari quartieri della città, avviando da questa mattina le operazioni di pulitura delle caditoie otturate con mezzi autospurgo che favoriscono il deflusso delle acque meteoriche in vista dell'avanzare della stagione autunnale e di previsione di maltempo e di caduta foglie. Barbara Nanni, responsabile rete di Marche Multiservizi, ed Enzo Belloni, Assessore all'operatività, hanno seguito la partenza dei lavori iniziata dal centro storico. In città abbiamo oltre 25 mila caditoie, assieme a Marche Multiservizi stiamo coordinando un intervento su tutta la città, sarà un intervento che si farà a step, quartiere per quartiere, ovviamente se ci saranno situazioni di particolare criticità interverremo nel più breve tempo possibile. Sono tante operazioni che assieme a Marche Multiservizi stiamo portando avanti per rendere la città sempre più bella.